foto private in topless e intimo scaricabili attraverso twitter la giovane popolare adiletta leotta giornalista sportiva di sky pare abbia subito il furto di sette foto che da qualche ora hanno cominciato a girare il web diversi messaggi di indignazione da parte di fan e che hanno commentato esprimendo solidarietà per questa violazione della privacy avvenuta per di più a pochi giorni di distanza dalla vicenda di tiziana cantone morta suicida dopo il clamore mediatico dato dalla divulgazione di un video hot girato con il fidanzato e poi diffuso in rete a